Citroen è un brand che da sempre si ispira alle persone e alle proprie esigenze per sviluppare prodotti e servizi e Ami nella dimostrazione. Ami 100% elettrica è la più contemporanea ed intelligente ma allo stesso tempo semplice soluzione di mobilità urbana oggi che un costruttore di auto è in grado di offrire. 100% elettrica ha un'autonomia di 75 km che consentono di poter gestire i normali spostamenti all'interno della città e inoltre si ricarica in maniera straordinariamente semplice in soli tre ore ad una normale spina di corrente. Può essere guidata da 14 anni a una dimensione così compatta da occupare la metà del posto di un'auto tradizionale, dunque Ami la soluzione più intelligente, più innovativa e allo stesso tempo più anticonformista per potersi oggi muovere in città. Per il lancio di Ami in Italia abbiamo deciso di adottare un approccio completamente non convenzionale, esattamente come non convenzionale Ami, che ci vede per la prima volta di fianco a Win3, il primo operatore mobile in Italia che vanta una rete top quality network 5G. Perché Win3 e Citroen insieme? Perché condividono i valori, condividono la mission, ovvero avvicinare le persone. Citroen avvicina le persone fisicamente, Win3 avvicina le persone digitalmente perché condividiamo lo stesso approccio, lo stesso ottimismo, la stessa positività ed empatia verso i nostri clienti. Questa partnership straordinariamente innovativa innanzitutto è un progetto di comunicazione che ci consentirà di raggiungere gli oltre 26 milioni di clienti Win3 ed in particolare i clienti giovani e giovanissimi, ma allo stesso tempo è una partnership distributiva. I clienti Ami infatti per la prima volta potranno scoprire il nostro straordinario oggetto di mobilità, soluzione di mobilità adubana, anche in un selezionato numero di store Win3, dove saranno supportati anche nel processo di acquisto qualora desiderassero subito completare l'acquisto di Ami. Infine una partnership che poi si sostanza di un'offerta anche in questo caso convergente. Da una parte Ami accessibile già a partire da 19,99 euro al mese, oggi per tutti i clienti Ami e per i prossimi sei mesi tutti i clienti Ami potranno accedere ad un'offerta esclusiva a loro riservata. La top quality network 5G di Win3 ha soli 9,99 euro al mese per i primi 24 mesi con minuti illimitati e giga illimitati.